Cosa ne dici Roby di andare a scoprire dove pedagliamo oggi? Andiamo perché oggi l'appuntamento in pratica è doppio, quindi andiamo pure. Sigla! Allora, allora, beh, il doppio appuntamento è dato dal fatto che a breve naturalmente andremo anche in Veneto perché oggi è folta anche la rappresentanza di ospiti da quella regione, però prima cambiamo totalmente versante o quasi e ce ne andiamo in Sardegna, in una zona del sud, quella di Iglesias, definita del Sulcis Iglesiente, che tra l'altro è una curiosità, così diciamo, geopolitica, è la provincia più povera dell'intera Europa, ma sicuramente ha tantissimi altri pregi. Ci sono diversi territori che sono pedalabili, in particolar modo alcuni proprio, torno ad Iglesias, che sono tra il mare, come vedete da queste immagini, e le antiche miniere di carbone. Ne è rimasta un'attiva, la sola tra l'altro in tutta Europa, ma molte sono inattive, non più funzionanti e diventano una sorta di panorama per quel che riguarda l'archeologia storica ed industriale. Territori che ovviamente sono molto belli, meritano in particolare un'attenzione al giro delle miniere, quattro giorni, dal 2 al 5 di giugno, nel 2016, l'edizione numero 17. Quindi questo è un suggerimento, se volete saperne, scoprire di più a riguardo, sito internet, pagina Facebook, giro delle miniere.